Buonasera, desidero salutare tutte le persone qui presenti e tutte quelle che ci seguono da casa online. Questo è il primo incontro di una serie di sei dedicato alle piante alimentari dei nostri antenati. Il tema è vasto e può essere affrontato sotto molti punti di vista per cui quando lo abbiamo pensato la dottoressa Neipi ed io abbiamo dovuto fare dei tagli piuttosto drastici, delle scelte anche che ci sono dispiaciute in qualche modo e abbiamo deciso per delimitarlo di parlare delle piante in quanto tali, in qualche modo rendendole strane al loro ambiente, quindi avulse dal loro ambiente e non occupandoci dell'importanza che ha avuto scegliere delle piante alimentari rispetto ad altre. Importanza che non è solo un'importanza socio-economica ma è anche un'importanza nel determinare il nostro paesaggio, quello in cui noi viviamo, perché quando usciamo dalle città noi ci troviamo in un ambiente che non è né totalmente antropico né totalmente naturale ma è dovuto alla cooperazione tra l'uomo e la natura e questo quello che noi vediamo è proprio determinato in gran parte da quale piante sono state scelte per essere messe in coltivazione, però è un argomento che verrà solo accennato. L'incontro di stasera ha il titolo le piante alimentari nelle collezioni botaniche, storia e casi particolari, l'olivo e la vite nell'erbario Micheli che è un erbario di grande importanza sia scientifica che storica di cui appunto stasera verrà parlato. I relatori sono la dottoressa Chiara Nepi che si è laureata in agraria qui all'università di Firenze e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in biosistematica vegetale. È attualmente curatore responsabile delle collezioni botaniche del museo di storia naturale che è parte del sistema museale dell'università di Firenze e oltre a occuparsi delle delle collezioni è anche una botanica che si occupa di sistematica. Ha pubblicato diversi lavori su alcune piante, in particolare ricordo il genere rosa e si è occupata anche di studiare le collezioni che sono nel museo ma anche le figure dei botanici del passato che hanno gravitato a Firenze e non solo tra questi per esempio Odoardo Beccari. Si occupa anche della identificazione degli elementi vegetali nelle raffigurazioni artistiche e proprio nell'ambito dei rapporti tra arte e scienza è stata curatrice di numerose mostre sia in Italia che all'estero. Il dottor Vergari è anch'esso laureato in agraria all'università di Firenze e svolge i suoi studi e quindi pubblica su molti articoli soprattutto nel campo della storia dell'agricoltura e è membro dell'Accademia dei Giorgofili ma è anche membro di molte altre associazioni sia di carattere storico che di carattere agronomico e anche umanitario perché ho scoperto andando a cercare che è molto impegnato nell'associazione Sale della Terra che è una ONLUS che si occupa di aiutare le persone bisognose nella Repubblica Democratica del Congo con progetti di scolarizzazione, sostegno nutrizionale, assistenza ai malati e anche di appoggiare lo sviluppo agricolo con la finalità di rendere la popolazione autosufficiente dal punto di vista alimentare. Per quello che ci riguarda stasera è anche autore di un importante lavoro dedicato a Pier Antonio Micheli e all'Uva quindi penso che ci dirà qualcosa anche su questo. Lascio la parola ai relatori. Buonasera a tutti, inizio io e vi parlerò un pochino della figura di Pier Antonio Micheli, delle sue collezioni e della loro importanza. Qui vedete un ritratto, il busto che è collocato all'interno delle collezioni botaniche del Museo di Storia Naturale, busto fatto, si legge in un articolo proprio sulle spoglie mortali di Pier Antonio Micheli da uno scultore del Settecento che era Leonardo Frati. Pier Antonio Micheli era l'Avido in Colombaria perché è stato, uno viene definito uno dei soci fondatori, in realtà lui entrò in Colombaria un anno dopo l'istituzione dell'Accademia perché entrò nel 1736 e prese questo appellativo di avido. Vi dico, cerco di essere abbastanza sintetica su qualche notizia sulla sua vita perché è abbastanza curiosa la sua esistenza e la sua evoluzione da figlio di una famiglia molto modesta, nasce nel 1679 a Firenze in una famiglia di tintori, modesta sì ma non al punto da non fare studiare il ragazzo che impara a leggere e scrivere la scuola di grammatica. Una volta finiti gli studi il padre lo manda a lavorare in una legatoria fiorentina. Pier Antonio ha già dimostrato una grande passione per le piante e trovandosi a lavorare in questa legatoria si trova a contatto con i testi di botanica che venivano lì stampati e rilegati. Ho portato un esempio di uno dei commentari dei Pierandrea Mattioli, commentari a Dio Scoride, perché proprio sfogliando, leggendo questi volumi mentre lavorava, si appassiona sempre di più alle piante e comincia a raccoglierle. Tutte le notizie che vi racconto sono tratte dalla vita che scrisse Giovanni Targioni Tozzetti, suo allievo, una descrizione, una biografia molto molto accurata che ci racconta appunto come Pier Antonio trovandosi a contatto con questi testi di botanica si appassionava sempre di più, raccoglieva piante, comincia a conoscere gli speziali fiorentini ai quali procura le piante officinali, va nell'orto botanico di Firenze a conoscerle, a identificarle e conosce una conoscenza fondamentale quella fatta con i padri Vallombrosani, Falugi e Tozzi i quali erano appassionati botanici, tra l'altro Tozzi diventerà anche un famoso botanico conosciuto internazionalmente e con loro impara a fare quelli che venivano definiti gli scheletri delle piante cioè i campioni essiccati delle piante che raccoglieva frequentando quindi le botteghe degli speziali conosce anche l'ambiente colto di Firenze, gli intellettuali di allora che gravitavano intorno alla corte di Cosimo III dei Medici e fu proprio il medico di Cosimo III Giuseppe del Papa insieme al conte Magalotti che un giorno presentarono al Gran Duca Pierantonio con il Gran Duca cominciò subito un rapporto molto molto fecondo perché il Gran Duca subito prese a benvolere questo ragazzo del quale diceva come fa a conoscere le piante se non sa di latino perché la lingua che veniva utilizzata nei testi scientifici così era ovviamente il latino ma i padri Vallombrosani oltre a insegnare a realizzare i campioni d'erbario gli stavano insegnando anche questa lingua e quindi lui poteva anche leggere i testi un pochino più scientifici diciamo così quindi Cosimo III prende a benvolere Pierantonio Micheli che è giovanissimo perché siamo agli inizi del 1700 primi anni del 1700 e addirittura gli dona quello che era l'ultimo grido nel campo dell'editoria botanica cioè questa istituzione srei erbarie di Joseph Piton Turnfort che era il direttore del Jardin des Plants di Parigi Turnfort è stato un personaggio, uno scienziato fondamentale per quanto riguarda la classificazione delle piante a lui si deve l'istituzione del genere cioè proprio questo modo di classificare le piante partendo dal genere e Pierantonio Micheli seguirà per tutta la vita le norme classificatorie istituite da Turnfort Diventa tanto amato, si può dire, dal Gran Duca che questo lo nomina aiuto del custode del Giardino dei Semplici di Pisa che per chi non lo sapesse è stato il primo giardino botanico fondato al mondo nel 1543 e lo assume con l'obbligo, come scrive anche Giovanni Taggioritozzetti di raccogliere piante che fossero coltivate nel giardino botanico di Firenze e in quello di Pisa e come dice appunto Giovanni da quel giorno in poi, siamo nel 1706 il Micheli si dedicò tutto allo studio della botanica vi si dedicò talmente tanto che cominciò a percorrere praticamente tutta la penisola arrivò dal nord, addirittura sconfinò andò in Tirolo, in Germania fino alla Puglia e mise insieme una messe di raccolte veramente eccezionale le sue raccolte sotto forma di erbario sono oggi conservate appunto nelle collezioni botaniche del Museo di Storia Naturale e qui ne vedete solo una parte sono contenute circa in 260 scatole quelle che vedete qui anni fa venne fatta una sorta di catalogazione molto snella però siamo arrivati a vedere che contiene contiene questo erbario più di 25 mila fogli quindi su un foglio ci possono essere anche più campioni quindi per un numero molto più elevato di campioni che ovviamente quando Piero Antonio lasciò questo erbario lo lasciò in eredità a Giovanni Targioni Tozzetti conteneva solo i suoi campioni più quelli dei suoi corrispondenti però poi quando venne in mano dei Targioni Tozzetti questi da Giovanni, Ottaviano, Antonio inquinarono questo erbario con i loro campioni ma una cosa che fecero, questo soprattutto Ottaviano fu quello di organizzare questo erbario secondo la classificazione di Linneo perché nel frattempo era uscito il testo fondamentale di classificazione delle piante di Linneo del 1753 classificazione che da allora è stata poi sempre è stata adottata dappertutto e quindi qui vi ho portato esempi di campioni di Micheli e come vennero organizzati da Ottaviano Targioni Tozzetti che fece allestire, fece costruire queste scatole a forma di libro in cui sono contenuti i pacchi dell'erbario accanto a questi organizzati in questo modo esistono però poi ancora delle raccolte che non sono entrate a far parte di quello che oggi chiamiamo più propriamente erbario Micheli Targioni quindi in quelle scatole sono dei pacchi si potrebbe dire abbastanza rudimentali originali proprio di Micheli e qui ho portato un esempio di un pacco di leccio perché accanto alle raccolte praticamente a tutto campo che Micheli faceva ad un certo punto cominciò anche a raccogliere a fare delle raccolte monografiche in che senso? erano raccolte che erano dedicate a singoli generi di piante o a singole specie addirittura ad esempio di Quercus Ilex che è il leccio noi abbiamo centinaia di campioni che lui raccoglieva a Firenze e nei dintorni in una sorta di volontà di voler vedere quale fosse la variabilità all'interno della specie quindi Micheli fu anche un precursore degli studi anche moderni di oggi oltre a leccio raccolse decine e decine di campioni di Olmi, Filliree ed altri generi proprio per osservarne le differenze a livello morfologico Giovanni Targioni racconta che Micheli aveva una vista acutissima riusciva a vedere ad occhio nudo particolari minutissime le piante ovviamente lui era anche dotato di lenti e anche di un rudimentale microscopio però veramente cercava di raccogliere tutte quelle piante frammenti delle piante che secondo lui mostravano delle differenze accanto all'erbario Micheli insieme all'erbario quando morì nel 1737 lasciò una enorme quantità di manoscritti manoscritti che possono riguardare i diari dei viaggi che aveva fatto in tutta Italia che possono riguardare la descrizione delle piante che raccoglieva e che sono fondamentali per lo studio dell'erbario perché purtroppo sui campioni non è che lasciasse poi tante indicazioni voi sapete che un campione d'erbario è fatto dal reperto botanico essiccato corredato da un'etichetta da un qualcosa che ci illustra al limite anche non il nome della specie ma chi l'ha raccolto, quando e dove ecco Micheli è stato abbastanza non avido in questo senso ma abbastanza avaro anche perché appunto aveva questi manoscritti in cui lui prendeva appunti sulle piante che raccoglieva tra questi manoscritti che sono conservati nella biblioteca di scienze nella sezione botanica e sono il numero del 72 oltre ad altri numerosi manoscritti che sono conservati nel fondo Targioni Tozzetti della Biblioteca Nazionale di Firenze insieme all'interno di questi manoscritti sono molto importanti quelli riguardanti la micologia Piano Antonio Micheli è conosciuto come il fondatore della micologia perché per primo riuscì a scoprire come si propagavano i funghi riuscì a far germinare le spore che sono gli organi di propagazione di queste piante che lui definiva plante semplicissime vi ho scritto i plerunque, carnose, anomale se è un regolare nel senso che si era reso conto che oggigiorno addirittura non sappiamo nemmeno più se classificarle come piante oppure no e quindi allora di questi manoscritti ben 22 riguardano la descrizione dei funghi che lui raccoglieva dappertutto ne ha lasciati alcuni che sono conservati nella carpoteca delle collezioni botaniche del museo ma per lo più lui ha lasciato descrizioni accompagnate da tavole tavole iconografiche che come ne ho portati alcuni esempi sono veramente molto belle e vennero realizzate da questo Giovanni Bonechi torno a parlare però un po' dell'argomento di stasera cioè cosa c'entra Pian Antonio Micheri con le piante alimentari c'entra tantissimo perché una gran parte dei suoi manoscritti riguardano proprio le piante coltivate questo qui che vedete viene considerato da chi ha studiato i manoscritti la Stefania Ragazzini che fece un bellissimo lavoro con la descrizione di tutti i manoscritti conservati nella biblioteca di scienze questo che è la lista di tutte le frutte che giorno per giorno dentro all'anno sono poste alla mensa dell'altezza reale di Cosimo III è considerato appunto il primo e da questo manoscritto poi si passa a numerosi altri che trattano tutti specie diverse di frutti ma tutti frutti nel senso veramente è una cosa che stupisce qui vi ho portato due o tre esempi il manoscritto 48 che contiene la descrizione degli agrumi e in particolare proprio di quelli che erano riprodotti nei campionari di Bartolomeo Bimbi perché Bartolomeo Bimbi era il pittore di corte di Cosimo III ed aveva il compito di ritrarre frutta e verdura che cresceva nell'ambiente fiorentini in ambienti fiorentini e toscani e Pier Antonio Micheli quindi si occupò anche della descrizione degli agrumi dal punto di vista scientifico degli agrumi ritratti da Bartolomeo Bimbi oppure nel manoscritto 46 in cui troviamo la descrizione di ben 91 varietà di fichi e di cui 37 raffigurati in questo caso non sappiamo bene chi sia stato l'illustratore molto probabilmente Tommaso Cellini che venne usato molto da Pier Antonio Micheli per ritrarre tante piante qui ci sarebbe da parlare veramente tantissimo sul fatto 91 varietà di fichi oppure come vedete in questo caso nel manoscritto 49 in cui sono descritte le varietà di pere 230 varietà questi erano i numeri che giravano tra la fine del 600 e l'inizio del 700 per quanto riguarda le varietà culturali di questi frutti e vabbè appunto oggi giorno quante ne mangiamo di pere quante diverse cultivar riusciamo a trovare al supermercato quindi qui ci sarebbe veramente tanto da parlare oltre ai frutti che vi ho illustrato ma che poi riguardano anche mele pesche susine tutti i manoscritti hanno queste descrizioni molto precise con spesso accanto la tavola che illustra si occupò anche di vite della vite e nel manoscritto 47 ne descrive poco o meno di 200 varietà diverse qui ho messo solo alcuni dei campioni che sono conservati nel suo erbario di campioni appartenenti a questa specie e alle sue varietà ne abbiamo 19 e di queste come degli olivi ora vi parlerà più estesamente Daniele Vergari però esiste appunto un altro manoscritto manoscritto 23 in cui Micheli descrisse 46 varietà toscane di olivo in erbario abbiamo circa 60 campioni appartenenti a questa specie e in questo caso al contrario nel manoscritto dedicato alla vite esistono anche delle tavole abbastanza schematiche ma precise nel descrivere le caratteristiche per quanto riguarda i campioni di olivo sono molto interessanti perché spesso lui penso qui si veda meglio se c'ho anche il puntatore vero se vedete questo ecco lui ritraeva anche metteva il campione il rametto dell'olivo e ritraeva la sagoma dell'oliva perché poi descriveva se era più o meno allungata più o meno schiacciata e così via queste cose le descriveva nel suo manoscritto aggiungo un'ultima cosa vedete che questi campioni hanno dei barcode perché in questo momento noi abbiamo da praticamente da pochi giorni da una quindicina di giorni abbiamo iniziato la digitalizzazione di tutto l'erbario Micheli digitalizzazione significa fare l'immagine scansione la fotografia di ciascun campione apponendo un codice identificativo a questo barcode accanto a ciascun campione in modo da poter consultare finalmente tutto l'erbario Micheli Targioni e fare intraprendere lo studio del rapporto tra i campioni e i suoi manoscritti cedo la parola a Daniele salve a tutti sono appunto Daniele Vergari e seguo un po' sulla linea di Chiara che ha tracciato un profilo preciso della della figura di Antonio Micheli dell'opera e di quanto materiale ha lasciato diciamo nella nella sua appunto ottimo e quindi diciamo io mi sono occupato in passato anche con la collaborazione di Chiara alla pubblicazione per esempio del manoscritto sulle uve di Micheli e quindi in parte per questo merito diciamo tra virgolette che sono che sono qui ma vorrei diciamo iniziare appunto con appunto due note su questo che portano un po' diciamo a cadere l'importanza di questo di questi testi micheliani che sono diciamo appunto estremamente interessanti perché lui descrive in effetti quella che oggi chiamiamo agrobiodiversità o biodiversità agraria in qualche modo comunque sia diciamo gli aspetti più legati alla biodiversità delle piante rilevanti per l'agricoltura quindi che sono diciamo di cui adesso diciamo c'è una maggiore attenzione se vogliamo che non è consegnata soltanto agli storici la biodiversità in effetti è un tema che qui c'è delle definizioni diciamo di biodiversità che ho riportato ma solo per per memoria in qualche modo comunque diciamo tutte le varietà degli animali piante microrganismi e c'è appunto una biodiversità vegetale in età storica che è come dire in qualche modo non sempre conosciuta talvolta un po' presa così eccetera e su questa diciamo in qualche modo ho cercato di dare un po' un contributo perché fin dall'antichità insomma le specie vegetali hanno viaggiato e lo sappiamo passando da un continente all'altro da un territorio all'altro e così via gran parte delle piante arboree lo sappiamo anche dagli studi di Vavilov in qualche modo hanno un'origine medio orientale le pesche vengono dalla persa gran parte delle vite dei cereali dall'area caucasica e così via e sfruttando vie commerciali o in altri casi conquiste militari gran parte delle specie e varietà di piante fruttifere si sono acclimatate anche da noi nel corso dei secoli anche nel medioevo la circolazione di varietà e specie vegetali ebbe una certa importanza e la Toscana grazie anche un po' al suo ruolo economico alle felici condizioni climatiche ebbe un ruolo rilevante la rete di banchiere e commercianti fiorentini che era diffusa capillarmente in tutta Europa permetteva infatti di raccogliere e far arrivare nelle ville e nei giardini del contado fiorentino più che nei giardini della città una ricca varietà di nuove specie e giunsero così per esempio l'uva salamanna il cui nome viene da messer alamanno salviati che la raccolse in oriente l'uva di gerusalemme alcuni maglioli di vernaccia furono introdotti dalla grecia grazie a perone peroni nel versi 1280 solo per citare diciamo alcuni alcuni esempi una buona parte delle varietà di agrumi giunse sempre nel medioevo sia per esempio nella rivera ligure che da noi appunto dalla Sicilia e dalle coste dell'Africa e successivamente anche in età moderna quindi diciamo in età medicia per quello che riguarda la storia della toscana la curiosità per le piante e non solo alimentari ma anche confini estetici riprese un certo vigore e dal nuovo continente giunsero decine di piante che si sono acclimatate e che venne raccolta appunto tra l'altro appunto nei primi giardini Firenze Pisa del 1543 Firenze del 1545 Padova mi sembra del 44 sono i primi 45 anche quello sono i primi tre diciamo giardini botanici d'Europa e sono molto importanti e manifestano appunto questi interessi ma già alla fine del 400 per dire Bernardo Vecchietti che aveva una villa verso Magna Ripoli diciamo più o meno la villa Riposo introdusse molti vitigni abbiamo notizia di questo i carciofi per esempio furono introdotti da Filippo Strozi verso il 1470 da Napoli ma sono fondamentalmente i medici la dinastia medica essere promotore e protagonista anche di questa passione Cosimo I si dilettava d'agricoltura spesso faceva anche innesti o potature personalmente e introdusse ad esempio le piante nane e implementò le coltivazioni nelle viglie di Petraia e di Castello a lui si deve appunto alla fondazione degli orti botanici Ferdinando I importò invece vitigni dalla Spagna dalla Corsica dalla Sicilia da Napoli da Candia Ferdinando II introdusse il claretto dalla Francia e infine Cosimo III invece piantò circa 150 vitigni nobilissimi di tutta l'area mediterranea diciamo nelle vigne di Castello di Topaia di Careggi di Artimino e della Villa delle Ginestre presso Lamporecchio di queste piante alcune sono arrivate fino a noi è arrivata una certa parte diciamo di questo germoplasma abbiamo rappresentazioni pittoriche che sono molto importanti quelle del Bimbi già citate prima ma è proprio appunto nel periodo Cosimiano Cosimiano di Cosimo III quindi verso la seconda metà del Seicento verso la fine del Seicento inizio del Settecento che accanto alle descrizioni botaniche che farà Micheli arrivano anche le rappresentazioni pittoriche che sono conservate in gran parte al Museo della Natura Morta di Poggio Accaiano ma una parte anche nel nuovo allestimento della specola dove le descrizioni sono precise dove anche il ritratto della pianta e del frutto molto spesso per quanto mancano alcuni caratteri certamente mancano le foglie quasi sempre però almeno il frutto è descritto in maniera precisa sul campione probabilmente preciso cioè che un po' sarebbe interessante diciamo affrontare questo cosa resta da dire appunto su quella biodiversità dei secoli precedenti prima di che ci sono vari testi in età diciamo medicia presta c'è l'avanzate bostichi suderini che sono testi pubblicati all'inizio dell'ottocento che raccontano in maniera precisa anche molte delle varietà ci sono i manoscritti di Agostino del Riccio che si spera prima o poi di pubblicare che sono molto interessanti però riportano poco più che il nome spesso della varietà non riportano diciamo indicazioni particolari certo da queste sappiamo che il Trebbiano la Malvasia il Canaiolo il Sangioveto o Sangiovese che sia erano coltivati in Toscana da tempo in memore così come tante altre varietà ma appunto è alla fine del XVII secolo quando appunto si affaccia a Micheli anche con l'avanzaria delle esperienze scientifiche che abbiamo i primi documenti eccezionali per molti versi in cui si descrivono i caratteri delle piante fruttifere e appunto sono proprio i manoscritti micheliani a darci queste indicazioni ora qui appunto ci sono un po' le stesse immagini Micheli personaggio 1679 muore nel 37 il 2 gennaio del 37 quindi insomma praticamente muore diciamo a cavallo del passaggio della Toscana Medicia muore all'improvviso muore perché prende freddo ma perché esce fuori di casa diciamo senza senza vestiti camminando lungo l'arno più o meno è anche in conseguenza di una vita non facile ecco però insomma in qualche modo si trascorre la salute per stare dietro a campioni vegetali questo questo è la sua raccolta appunto alla fine questa raccolta materiale abbiamo visto arrivata al museo di storia naturale in realtà appunto corse il rischio di essere dispersa e l'acquistò il suo allievo Giovanni Tagione Tozzetti anche con un grosso impegno familiare che sarà un peso che tutta la famiglia si porterà dietro per quasi cento anni prima di dare appunto una parte di questo materiale al museo di quello che diventerà poi il museo di storia naturale Giovanni Tagione Tozzetti di padre in figlio lascia poi appunto tutto il materiale a Ottaviano Ottaviano nasce nel 55 e muore nel 1829 che utilizzerà per esempio gran parte del materiale micheliano delle note nel suo dizionario botanico un'opera che appunto ha due dizioni che è molto interessante perché è un dizionario botanico italiano dove ci sono le descrizioni di tutte le piante e lì troviamo in maniera sintetica però le descrizioni micheliane da Ottaviano passa ad Antonio Tagione Tozzetti più noto forse nel mondo non tanto della botanica quanto per la moglie Fanny e per il salotto fiorentino in via Ghibellina che era frequentato da Leopardi da Manzoni da Giordano Giordano appunto un po' tutta un gruppo diciamo di intellettuali del risorgimento italiano e appunto nonostante sia più noto forse per la moglie a Spasia diciamo del ciclo leopardiano in realtà Antonio fu un ottimo medico e un ottimo botanico dell'epoca fu direttore dell'orto botanico come il padre dal 1830 al 47 fu Giorgofi lo personaggio di rilievo nel mondo scientifico toscano nella prima metà del XIX secolo e anche lui appunto utilizzò soprattutto i materiali poi per quest'opera particolare che esce a metà degli anni 50 e poi viene ristampata alla fine dell'Ottocento i sceni storici sull'introduzione delle varie piante nell'agricoltura e nell'orticoltura toscana che è una prima opera direi tra virgolette universale ora senza esagerare troppo però sulla storia della biodiversità in Toscana dove le indicazioni sugli arrivi le piante le origini delle piante e l'introduzione delle piante in Toscana soprattutto sono molto precisi grazie appunto a questa enorme collezione di manoscritti e di testi che loro avevano in casa propria nel 1945 per interessamento di Filippo Parlatore i manoscritti micheliani giunse al Museo di Storia Naturale e oggi sono conservate appunto la Biblioteca di Botanica di questo enorme corpo di documenti finora sono state pubblicate fondamentalmente la trascrizione sulle olive nel 98 a cura di Baldini e Ragazzini già citata prima per l'Accademia dei Giorgofili e manoscritto sulle viti edito appunto nel 2008 da me e da Roberto Scalacci che adesso è direttore in regione toscana dell'agricoltura e poi ci sono altri pezzi fatti appunto come i fichi e altri pezzetti diciamo ma non come corpo vero e proprio diciamo sui manoscritti micheliani anche se li prendi in esame in maniera molto precisa ecco questo è Antonio Sargione Sozzetti in un bellissimo disegno conservato all'Accademia dei Giorgofili avevano una mano i Sargioni Sozzetti potremmo stare ora a discutere ma avevano una mano pittorica eccezionale questo non è escluso che sia fatto diciamo dalle figlie e questo appunto è il frontespizio dell'opera appunto la collezione come si è detto arriva a Micheli e queste appunto sono altre immagini rispetto a quelle già fatte e cosa ci raccontano appunto i monoscritti micheliani sulla biodiversità di quel periodo ci raccontano un mondo già ricco come ha detto appunto poco fa Chiara sono descritte appunto 193 specie del uve 97 di fichi noci 37 varietà 44 di castagne 54 di susine e così via per arrivare poi anche alle specie ortive per esempio 126 di zucche e poponi 5 di cetrioli 7 di piselli e così via insomma un furore classificatore o comunque descrittivo non indifferente per un uomo che si dedicava alla botanica a tempo pieno o almeno così sembra e potremmo appunto parlare molto di questo anche perché in qualche modo in queste descrizioni ci sono anche riportate delle notizie e delle notizie storiche per esempio l'enorme quantità di pere che abbiamo visto prima tipica diciamo dell'epoca sono 232 più o meno ci rappresenta appunto anche una capacità di maturazione per esempio di queste piante che andava da marzo a novembre e così via alcune erano di origine tedesca altre francesi quindi una biodiversità che si arricchisce proprio dallo scambio anche con altre realtà non una biodiversità è una cosa che poi diciamo continuerà nel tempo nell'ottocento ci sarà tutta un'altra fase diciamo di ricostituzione di patrimonio vegetale che in parte è arrivata fino a noi e in parte si è evoluta diciamo con le specie con le varietà diciamo con le varietà attuali che mangiamo ma che in parte hanno un'origine in queste antiche varietà descritte da Micheli sicuramente Micheli come botanico di corte abbia modo di osservare gran parte delle varietà presenti nelle possessioni nelle ville medice e per questo è importante appunto questa sovrapposizione fra i quadri di Bartolomeo Bimbi e i manoscritti micheliani perché la sovrapposizione fra questi due documenti in qualche modo è estremamente forte e qui entriamo un po' nella breve descrizione diciamo del caso delle uve Micheli appunto nei suoi viaggi prese appunto su tutte le piante che trovava in maniera quasi ossessiva l'opera di Micheli il trattato appunto sulle uve è praticamente senza datazione non sappiamo quando lo ha scritto è probabilmente però successiva 1710-1715 anno in cui il botanico fiorentino iniziò i viaggi di erborizzazione con estrema metodicità in tutta la regione riuscendo così a raccogliere gran parte delle informazioni riportate il test il titolo del test se si legge qui appunto è storia delle viti che si coltivano in Toscana nelle quali vengono dimostrate descritte circa 200 specie disposte metodicamente secondo la forma e il colore dei canelli in realtà sono messe in ordine alfabetico però col modo di coltivarle secondo i luoghi appropriati alla natura di esse e aggiuntivi altre cose aspettanti anche se manca per esempio tutta la parte agronomica o comunque più legata alla coltivazione stessa delle viti non c'è questa parte c'è soltanto diciamo questa questa grossa descrizione particolarmente importante in alcune di queste coltivare è chiaro sono cloni della stessa della stessa varietà però questo non toglie che la ricchezza varietale che c'era in Toscana era estremamente elevata poco perché appunto secondo come abbiamo detto anche prima Cosimo Primo fece per venire molti vitigni nella sua villa a riposo Ferdinando Primo ne importò altri Ferdinando II il Claretto dalla Francia e altri 150 vitigni nobilissimi di lontano li plantò Cosimo III nelle vigne di Castello Tupaia Careggi Attimino un'importazione massiccia appunto favorita sia dalla passione dei medici per la botanica e quindi per le curiosità naturalistiche ma anche per ma se vogliamo diciamo è anche il momento in cui il vino in qualche modo è al centro di esperimenti Galileo per esempio uno che parla talvolta appunto del vino e lo definiva spesso secondo quanto riporta Magalotti un composto di umore e di luce interpretando così in maniera estremamente sintetica diciamo i due elementi fondamentali anche che servano alla 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 maturazione diciamo dell'uva e quindi alla qualità dei vini è un'immagine peraltro anche molto bella diciamo utilizzata anche da Dante Alighieri in parte quindi siamo in età decisamente prima guarda il calore del sol che si fa vino giunta all'umore della vita che dalla vita cola nel purgatorio ma che in realtà appunto rivela anche questo un'intuizione del grande scienziato frarentino Galileo che sulla base della luce e del sole diciamo la maturazione dell'uva hanno un effetto importante diciamo sulla maturazione dell'uva e d'altronde l'eredità dell'Accademia del Cimento quindi successiva diciamo al periodo di Galilei rappresentano in Toscano una tradizione di sperimentazione e di osservazione scientifica su cui Micheli si appoggia se non altro come substrato ideale diciamo per la propria esperienza scientifica il manoscritto in particolare questo di cui vediamo appunto il frontespizio e la trascrizione del frontespizio l'istoria delle vite si ultima nella Toscana era però fondamentalmente considerato perduto Mare Scalchi autore di una storia del vino degli anni 30 del secolo scorso dice non si trova più in realtà forse appunto non aveva avuto accesso a certe fonti però fondamentalmente di questo manoscritto esistono due copie una è conservata a botane e un'altra in quelle che citava prima Chiara in questo fondo di opere micheliane nascoste che si trova nel fondo Trazione e Tozzetti in Biblioteca Nazionale il fondo Trazione e Tozzetti in Biblioteca Nazionale è descritto solamente per le arte di Giovanni Trazione e Tozzetti in maniera dettagliata è un lavoro che fece Tiziana Regoni bravissimo tanti anni fa che fece quello e le selve però tutto il resto dei manoscritti che sono i manoscritti di Ottaviano e di Antonio e una parte di quelli micheliani che non sono andati a Botanica è rimasto diciamo nel fondo dei Trazione e Tozzetti nel fondo familiare fino a 1893 quando l'hanno dato alla Biblioteca Nazionale e fino allora a questo fondo quindi fino a oggi ancora non è stato descritto si è iniziato un tempo fa insomma una descrizione sulla base degli appunti miei ma diciamo appunto di lavoro non appunto diciamo di chi fa questo mestiere ecco quindi e lì ci sono ancora queste altre 20 filze micheliane molto interessanti perché completano e integrano secondo me certe volte quelle di Botanica e fra questi c'era questa copia molto carina appunto molto ben fatta anche ben leggibile dell'istoria delle viti e lo stesso Adolfo Tragenetozzetti l'ultimo scienziato della dinastia dice a un certo punto nella nella reedizione della vita di Micheli che l'agronomi italiani farebbero buon viso oggi ad avere un libro che registrasse tutte le varietà delle uve che si coltivano nella penisola ne stabilissero i caratteri ne determinassero la sinonimia per il variare delle forme e delle proprietà per le differenze di dialetti per le correzioni dei nomi e l'introduzione di varietà di nomi stranieri poco meno che inestricabile il Micheli tentò appunto con questa impresa nella sua storia delle viti quindi che ci fosse manoscritto lo sapevano cosa diceva questo benedetto manoscritto appunto la copia è stata reperita con un po' di fortuna appunto nella biblioteca nazionale centrale e si è provveduto poi appunto a una pubblicazione il manoscritto conservato a botanica era già stato in parte studiato da Maurizio Basso professore di arboricultura a Pisa negli anni 80 che è detto un contributo importante anche se semplice come diciamo forse frettoloso diciamo tra virgolette ma molto importante perché per primo rimise un po' insieme tutti quanti i manoscritti diciamo micheliani che parlavano di frutta dando degli elementi interessanti anche appunto di studio nel testo comunque del manoscritto Michele accompagna ogni varietà con una sintetica descrizione in latino utilizzata successivamente da Ottaviano Tagione Tozzetti per il suo dizionario botanico e una breve descrizione in italiano dei principali caratteri ampelografici spesso con precise indicazioni della misura degli acini del peso medio del grappolo della descrizione del luogo e il periodo nel quale l'uva è stata osservata descrizione e informazioni che sono precise e attendibili rappresentano ancora oggi un'insuperata fonte di informazioni sulla viticoltura toscana fra diciassettesimo e diciottesimo secolo per comprendere meglio appunto l'opera vediamo qualche esempio ecco questo per esempio il campione del bar è quello dell'aleatico la scrittura aleatico mi sembra quella di Ottaviano tra Gioni Crozzetti forse mi sembra la sua e questa è la descrizione diciamo la parte italiana della descrizione che dice appunto Micheli il grappolo sarà circa una libra composto di canelli folti l'un con l'altro di figura sferica di colore rosso bello di grandezza per universo di tre quarti d'oncia di sostanza morbida e di sapore dolce suave mosca dell'ato coltivasi nelle reali vigne di castello dove alcuni tengono che sia stato fatto venire da Cande e altri da Cagliari Cagliari ovviamente città dell'isola di Sardegna circa il 25 di settembre quindi descrizioni comunque precise che danno gli elementi precisi riguardo a quelle che sono i caratteri principali diciamo di queste uve un altro esempio è l'uque suva moscadella bianca il moscadello bianco nostrale qui ho riportato anche la parte latina perché è precisa anche qui e peraltro codificata cioè in tutti i 193 esempi lui usa termini latini comunque abbastanza precisi un certo set diciamo di caratteri e quindi poi appunto il Gapple è circa una liba composto di canelli o raffitti o radi fra di loro la loro forma è perfettamente rotonda eccetera eccetera diciamo quindi descrizioni appunto molto molto ricche le assaggiava e assaggiava non solo la prendeva l'assaggiava l'annusava la toccava vedeva se si dice certe volte il canello schiatta stiatta quindi è anche bello questo non dico rapporto eccessivo però diciamo questa capacità insomma di Michele di mettere le mani nella materia in pasta in qualche modo in questo senso un po' più agronomico e botanico forse comunque uno scienziato duro l'altra uva che vi volevo far vedere è questa che è una particolarità l'uva di tre volte l'uva di tre volte è un vitigno molto amato nel corso del settecento soprattutto del settecento spesso citato talvolta in maniera diversa è un'uva trifera e fa tre volte l'uva perché la fa sempre su elementi in qualche modo diversi è ben noto fin dall'antichità per il suo comportamento è una curiosità botanica anche Gallesio che sarà il descrittore di un secolo dopo perché inizierà nel 1815 a produrre la pomona la descriverà in maniera forse diciamo leggermente diversa ma più o meno uguale dicendo appunto che la vegetazione si apre in primavera come nelle viti normali e poi si formano diciamo alcune viti alcune gemme e poi delle femminelle su cui diciamo crescono le altre due diciamo generazioni anche se alla fin dei conti non arriva mai a maturazione o quasi soprattutto la terza la terza diciamo generazione in qualche modo di viti però questa vita rimanendo acerba era spesso utilizzata come anche altre per esempio per fare la gresto la gresto è il condimento per eccellenza di tutto il medioevo e buona parte anche del 700 800 l'insalata si condivano con la gresto gran parte delle robe si condivano con la gresto la gresto che era appunto succo di uva acido diciamo di uva non maturata e ancora oggi qualcuno si è rimesso a farlo grazie un po' anche a questi studi ottenendo un buon successo commerciale è un amico che l'ha fatto appunto che posso assicurare ovviamente bizzarro però ecco la gresto è un prodotto che fino a qualche anno fa poi c'è tantissime ricette sarebbe è indistriabile diciamo la genesi della gresto all'inizio era solo uva succo d'uva diciamo non fermentato che comunque fermentava in qualche modo in acidiva forse per essere più precisi ma poi dopo vengono messe piante aromi eccetera quindi ogni zona aveva il suo agresto ogni zona aveva la sua ricetta ogni contadino aveva la sua ricetta noi avevamo trovato i quattro o cinque tipi solamente nella zona di San Miniato e poi alla fine siamo andati su uno perché ci sembrava il più completo però erano ognuno aveva le sue le sue piante diciamo con cui addolciva questo questo composto ed è quindi diciamo un prodotto abbastanza particolare ecco le tante altre varietà di Micheli dove si vedono descritte in qualche modo nelle tavole del Bimbi queste sono le due immagini questa e quest'altra sono i due quadri diciamo appunto che sono conservati a Poggiaccaiano dove vi è una direi una sostanziale sovrapposizione con i manoscritti micheliani segno che Micheli di fatto probabilmente vedeva non dico gli stessi campioni ma quasi che erano diciamo descritti all'interno di questi di questi campionari diciamo bellissimi delle delle uve conservate presso i giardini Medici e il fra queste appunto la descrizione è la stessa cioè la descrizione corrisponde quasi quasi in tutti i casi noi abbiamo fatto una comparazione con speciliva appunto su questo gli ampelografici detto appunto tra virgolette ragione ora qui riporta appunto il caso della galletta bianca bellina perché è un'uva diciamo particolare non comune con questa forma diciamo un po' particolare detta così per la riforma per la forma ricurva del suo aceno che ricorda i reni dei galli tanto che i francesi la chiamano rognon de coq secondo il villi franchi però qui siamo già quindi 70 anni dopo micheli in ambito giorgofilo ma villi franchi poi è un cognome di fantasia ma in realtà è un altro è un altro personaggio è citata però quest'uva anche da agostino del riccio la galletta bianca molto lodata per mangiarsi fresca di settembre ma d'ottobre è meglio dice ed è appunto un grappolo di due tre libri con ganelli non gran cosa serrate fra loro che ciondoloni stanno la lunghezza di questo non c'è mezzo la grandezza è proprio di mezzoncia di capo a punta stretta ma l'estremità ma più l'estremità che il capo ritorti a modo di falce perché lo imitano lo corno di bove colore bianco giallice quando è ben matura e concotta dal sole allora è dolce grata e saporita e a mezz'agosto si inizia a vedere per gli mercati questa è la descrizione che dà Micheli e appunto torniamo un po' per chiudere un po' il discorso almeno sulle uve al volume che comprende appunto come si diceva prima 180 quasi 200 varietà 187 per essere precisi nel testo principale del manoscritto e altri 6 in un appendice quindi sono 193 varietà le uve descritte sono tantissime ma anche una cosa singolare che si trova in tutto il libro credo sia interessante è questa precisione nella localizzazione che viene sempre indicata l'uva ogni campione c'è un indica Micheli indica sempre precisamente il luogo abbastanza precisamente il luogo dove lo vede e quindi viene fuori anche un panorama geografico di dove è andato in qualche modo a pescare per me che sono gli Scandicci mi sembra di averlo visto passare sotto casa almeno una decina di volte perché descrive la verdona di Scandicci appunto a Vingone e per chi conosce il Vingone c'è ancora il solito ponte più o meno nella vigna di quel podere che fa cantonata e ha il pozzo fuori e lì ci sono ancora delle case che più o meno potrebbero essere quelle indicate da Micheli o quasi sulle indicazioni possiamo oggi tracciare facilmente in molti casi i luoghi e i percorsi fatti sapere che gran parte del germoplasma era disposto sulle colline a Torna Firenze a Marignolle per esempio a Scandicci a Scandicci Alto dove abitava Tommaso Cellini pittore di gran parte delle tavole a colori che accompagnano le opere di Micheli e da Scandicci spesso scendeva per una strada che ho ben presente verso il Vingone e superava il ponte e andava su a Casignano a Spazzavento toponimo quasi dimenticato e da lì a Chiesa Nuova alla Romola quindi altri paesini diciamo oggi un po' così sono diventati residenziali per altri versi ma dove c'era un'agricoltura antica una permanenza probabilmente anche di un'agricoltura diciamo nel tempo che perpetuava le varietà da tempo in memoria e per poi dopo andare invece sulle colline a nord di Firenze o lungo l'asta dell'Arno per raggiungere appunto le proprietà di le varie ville medice fondamentalmente nel quale vi erano larghe superficie a vigneto gran parte di queste dalle mappe che abbiamo trovato erano anche fatte con criteri tra virgolette moderni cioè i medici non mettevano in uno stesso filare tutte le viti ma facevano campi monovaretali che sono 3, 4, 5, 6, 10 filari di uva galletta per dire o San Gioveto o San Gioveto grosso che è ancora presente per esempio nella zona dell'Amole è un vitigno classico del Chianti con l'idea anche di fare probabilmente vini monovaretali quindi avevano avevano quello che volevano poi i medici insomma non gli mancavano né soldi né mezzi né persone diciamo per fare questa operazione però avevano diciamo questo gusto anche di fare probabilmente appunto questi vini monovaretali che è molto interessante però poi Michelli c'era tutta la Toscana Valdinevole nell'Aretino ad Anghiari come riporto in alcune descrizioni nel Pesciatino quindi insomma in tutta la Toscana chiaramente non nella Maremma perché era abbastanza insalubre e certo non coltivata a vite ma diciamo in quella che era la Toscana interna Michelli se l'è girata tutta più volte e questo è un grandissimo contributo anche alla storia botanica ma anche agricola della Toscana passando all'ulivo rapidamente questo è il testo diciamo in manoscritto fatto nel 98 da Enrico Baldini e Stefano Ragazzini dove sono state pubblicate diciamo fondamentalmente però le tavole dell'olivo più che le descrizioni questo è un peccato diciamo che c'è un po' un apparato critico eccetera ecco qui vediamo alcune tavole quindi c'è meno da dire lo conosco anche meno devo dire come il testo ma questo olivo ha mandorlato da indolcire però le descrizioni dei disegni sono estremamente precisi e molto anche suggestivi per quello che riguarda la descrizione di queste piante d'olivo c'è l'olivo gramignolo che è fondamentalmente poi la la mignola è una varietà ancora utilizzata utilizzata una varietà ancora presente nella zona del Pisano Santa Maria Monte eccetera è una varietà diciamo utilizzata e ha questo live molto piccolo ma fa questo olio molto diciamo qualità organolettica intendo bassissima acidità alti polifenoli e quindi diciamo un po' tutti gli elementi che ci sono le immagini in questo caso qui sono 46 e fanno vedere appunto una grossa diciamo descrizione di questi caratteri probabilmente alcuni ci sono i classici nomi morchiaio muraiolo frantoio correggiolo muraiolo eccetera appunto nomi accanto ai quali ci sono nomi suggestivi come appunto l'oliva all'oro o all'orino razzaio rossellino e così via gramignola appunto che ci hanno un'idea di questa enorme varietà anche per quanto riguarda l'olivo all'interno della Toscana alcune di queste varietà saranno poi descritte nei testi successivi per esempio i Tavanti il ministro 800 un trattato sull'olivo diciamo che vince se ben ricordo un concorso dell'Accademia dei Giorgofili ma che di fatto diventa il testo durante il primo napoleonico fondamentalmente il testo di riferimento per l'olivicultura toscana mancano appunto immagini pittoriche di qualità bimbi non mi sembra si sia mai dedicato all'olivo però diciamo l'iconografia non manca e questo manoscritto appunto purtroppo manca in parte l'edizione o comunque c'è nelle note in parte l'edizione del manoscritto micheliano ma è comunque sicuramente molto importante ecco vado a concludere rapidamente le opere di Micheli che ci dicano oggi perché sono anche così importanti a delà della storia della botania o della storia della scienza che diciamo sono opere che non non si possono diciamo relegare solo solo a questo aspetto appunto di storia della botania o di storia della scienza o di storia dell'agricoltura l'attualità di questi documenti è da leggersi forse anche come documenti storici necessari sicuramente per la storia della biodiversità ma anche in qualche modo come spunto per il recupero di antiche produzioni o di antichi vitigni per esempio questo è stato appunto il caso quando pubblicammo il libro di un nostro amico un viticoltore di San Meneato faceva un ottimo vino ma non poteva venderlo perché aveva un vitigno spagnolo che non era ammesso alla coltivazione banalmente il Tempraniglio bombe concini gli si dette abbastanza informazione appunto da dire sì ok la regione poi gli ammise appunto il vitigno alla coltivazione perché gli si disse guarda vitigni in Spagna ce n'è quanti tu ne vuoi queste sono le descrizioni queste sono le immagini ora non siamo ampelografi però diciamo un po' di informazione sul Tempraniglio diciamo senza doversi inventare cose incredibili ce l'hai e in effetti appunto è stato ha avuto diciamo la possibilità di poterlo coltivare ed è uno dei pochi in Toscana che lo fa peraltro se non l'unico e questo è un tema interessante per quello che riguarda anche la viticoltura attuale questa necessità di caratterizzazione dei vini che può sfuggendo diciamo anche analogica di gusto internazionale di internazionalizzazione dei gusti diciamo può partire anche attraverso il recupero per esempio di varietà scomparse abbandonate rare particolari che possono caratterizzare appunto maggiormente certi vini e considerando che di queste 193 varietà circa 70 80 sono ancora presenti nella viticoltura toscana sia come campi collezione che come varietà certo non tutte saranno adatte ma insomma è stato un percorso che è partito e lo stessa cosa si può dire sull'olio anche per l'olio appunto anche se le informazioni sono un pochino minori è un settore importante con margine inferiore di guadagno diciamo ma può valere lo stesso discorso certe volte diciamo di puntare su varietà locale nei nostri progetti chissà di quando ma nei prossimi anni di sicuro abbiamo già iniziato in realtà la trascrizione degli altri manoscritti di una parte di altri manoscritti iniziato peraltro da tanto tempo però diciamo ci sarebbe la volontà di continuare quest'opera di riscoperta della descrizione del germoplasma vegetale descritto da Micheli con l'edizione diciamo degli altri testi più o meno mele, pere e pesche sono già trascritte e non è banale ma insomma e così via e quindi diciamo continuare in questo questo è quello che ci ha lasciato Micheli e non è poco perché è importantissimo ecco e niente io ho finito vi ringrazio dell'attenzione giusto se avete domande è l'ora buona per farle chiedere appunto quello se qualcuno ha domande da fare arrivo con grazie vorrei sapere professori questa produzione di vini e olio era destinata per la nostra regione o già c'era un'esportazione e verso quali semmai paesi anche all'estero grazie posso provare a rispondere ma il sì diciamo il vino in età tardomedicia viene esportato dalla Toscana la Toscana produce tanto vino e tanta gente lo beve in maniera anche in consulta forse rispetto a oggi ma è un alimento per molti più che un piacere però c'è anche tutta una produzione di vino per esempio destinata all'esportazione soprattutto all'Inghilterra l'Inghilterra è un paese che assorbe tanto vino toscano tanto che in fondo il bando del 1716 quello che definisce il Chianti e altri quattro vini quindi il primo bando che è riconosciuto un po' come l'elemento il primo elemento diciamo che rappresenta una doc di OCG è fatto proprio per tutelare la qualità dei vini toscani perché appunto c'era stato un sacco di frodi soprattutto in Inghilterra avevano portato l'inglese a non acquistare più vino dalla Toscana perché non si fidavano più fondamentalmente ecco queste due note per provare a rispondere alla domanda però non è un tema ancora molto studiato o approfondito però di sicuro c'era l'Inghilterra è uno dei paesi dove più volentieri si beve e si acquista vino toscano poi come ci va e cosa arriva il grosso problema del vino in questa fase è per l'esportazione è il trasporto trasporto perché al di là della bottiglia che non era la bordolese chiaramente andava in fiaschi e non c'era i tappi di sicuro banalmente quindi il problema è cosa arrivava perché pendeva aria perdeva qualità eccetera provano il modo di tapparlo è appunto queste carte cerate con il filo lo spago il sigillo tutto il resto però di fatto il vino non arriva quasi mai uno dei grossi problemi insomma descritti anche poi nel corso del Settecento il vino quando si fa trasportare poi arriva spesso non arrivava nelle condizioni in cui era partito e quindi questo noceva chiaramente alla fama anche dei vini toscani però il tema interessante andrebbe diciamo un po' studiato perché sicuramente è un diciamo un elemento importante anche per capire i medici facevano vino per loro fondamentalmente poi forse qualche cosa vendevano di sicuro ma tanto ne facevano tanto però insomma ecco per dire forse tornando per esempio se uno legge le lettere di Galileo o le lettere a Galileo a parte Galileo beveva una quantità di vino immonda proprio cioè era un direi un ubriacone ma lo dico scherzando ma era una persona beveva tantissima e gli davano litri e litri di vino ma di vari tipi ed era precisissimo lui nel tenerne un conto e precisi i medici e non dico cantiniere diciamo i segretari particolari del Gandura a inviarle lo che fosse buono che fosse stabile che non andasse in aceto perché poi il problema grosso di questi vini il fatto è che non hanno una struttura tale da poter avere una conservabilità nel tempo quindi il problema c'era e quindi insomma sono molto carini gli scritti di Galileo sul vino per quale motivo alcune specie o varietà nel tempo vengono abbandonate altre se ne aggiungono e la qualità questa evoluzione da cosa dipende ora si stanno si stanno cercando di recuperare anche a certe varietà antiche poi un'ultima cosa all'epoca diciamo il criterio di distinzione tra una varietà e l'altra su che cosa si basava sulle foglie 200 varietà di pere mi sembra tantissimo insomma i criteri di varietà la differenza delle varietà le dà la descrizione quindi cioè morfologica è una descrizione che chiaramente non hanno oggi il problema è genetico e la genetica ci ha fatto vedere peraltro che molte varietà che noi consideriamo separate fra di loro sono in realtà più prossime di quanto non sembra quindi alla fine dei conti insomma le varietà sì c'è una diciamo una varietà intravarietale notevole ho perso però il pezzo della prima domanda le chiedo scusa nel corso del tempo certe varietà per esempio di frutta di uva di pere alcune varietà vengono mantenute altre vengono più coltivate certo perché vengono introdotte varietà nuove ma qual è il motivo per cui quelle vecchie perché c'è anche un problema sanitario per l'uva il problema sanitario per l'uva sulle varietà dipende anche proprio per esempio la sensibilità soprattutto nel corso dell'ottocento l'arrivo dell'oidio nel 1851 52 comunque in quegli anni l'arrivo delle malattie americane devasta il patrimonio varietale europeo in qualche modo perché obbliga sicuramente a cercare nuove varietà resistenti a andare su quelle e poi appunto poi i portinnesti per quanto riguarda la peronospora ma insomma o la filossera che sia però per esempio nel corso dell'ottocento peronospora filossera e oidio rappresentano le tre più grosse minacce oggi come oggi le varietà la scelta delle varietà in viticoltura è legata soprattutto all'ottenimento di un vino di mercato in qualche modo quindi diciamo la tecnica enologica è tale e sa che si lavora bene sul sangiovese perché è un materiale plastico in qualche modo ci possiamo fare quasi tutte quindi diciamo si lavora molto bene quindi tanti vini sono andati appunto a fare sangiovese in purezza ma questo non toglie che vi sia la possibilità di apportare nuovi vitigni o nuove varietà che vanno sapute gestire ecco poi in cantina perché in cantina è un altro mestiere ecco nel senso si può partire anche da uve buone però insomma l'uso di lieviti selezionati l'uso di tecniche enologiche un pochino più precise sicuramente ha cambiato tanto e forse ha fatto anche andare un po' la viticoltura moderna in certe direzioni per cui si usa il sangiovese se si può internazionalizzare un po' il vino si mette i merlossi quindi in certe varietà che hanno gusti precisi o comunque diciamo che strizzano l'occhio in qualche modo dalle logiche di mercato poi c'è chi invece un po' più del mercato si stacca ma non perché non vada sul mercato ma semmai ha una clientela un pochino minore o alla ricerca di sapori o di odori profumi diversi sappia appunto proporre anche varietà diciamo di vino in qualche modo diverse che semmai si è adattato a cercare combinazioni appunto diverse di vigneti in fondo il Chianti per fare una riflessione banale dalla formula ricasoliana di ricasoli è cambiato è cambiato sensibilmente insomma da uva trebbiano malvasia e colorino oggi sì la formula è ancora quella lì più o meno ufficialmente ma sono cambiate le percentuali tanto che si può fare i Chianti Chianti con il 100% mi sembra di San Giovese in purezza quindi il mondo del vino è complesso i gusti cambiano e quindi ecco la storia di queste varietà può essere un elemento per poter seguire o per poter differenziare un prodotto che sta diventando forse un po' più omogeneo per certi versi in un ambito molto ampio chiaramente non dico che ha tutto lo stesso sapore perché non sarei nemmeno né giusto né generoso né soprattutto competente però il grosso problema di alcuni di Ocg è quello di avere i gusti un po' appiattiti diciamo un po' non dico tutto uguale però diciamo di avere un po' una franchezza di un tipo e così e tutti si allineano un po' a quel genere non so se le ho risposto se posso scusate aggiungere nel discorso l'estremo i grandissimi numeri di varietà che abbiamo citato prima di pere mele sussine così erano anche dovute al fatto cioè si cercava di sfruttare appunto come diceva Daniele Vergari il fatto che maturassero in epoche diverse i frigoriferi non esistevano cioè oggi noi abbiamo la possibilità di conservazione e dei sistemi di conservazione che ovviamente non esistevano quindi se avevi durante non dico tutto l'anno ma quindi l'estrema i grandi numeri di varietà servivano anche a coprire diciamo la produzione per un periodo più lungo oggi l'esigenza non c'è più e non solo ma oggi ci arrivano le pere dall'Argentina cosa me ne faccio di pere locali che magari anche sono piccoline stortignacole cioè per parlare in maniera molto così semplice banale per cui la ricchezza varietale si è ristretta anche per questi motivi insomma il fatto che negli ultimi decenni negli ultimi vent'anni la regione toscana e con l'ottobotanico di Luca come conservazione hanno fatto un enorme lavoro di recupero del germoplasma per cui tante piante in qualche modo sono state censite varietà censite salvate almeno da un punto di vista come individui come possibilità diciamo di poterle moltiplicare ci sono alcuni ampi collezioni c'è l'ortobotanico di Luca che mi sembra fa da orto che raccoglie e quindi questo è un senso per dire a cosa servono gli orti botanici oggi anche a conservare varietà che sono tra virgolette scomparse perché comunque rappresentano un patrimonio genetico assolutamente di valore perché la varietà genetica diciamo in agricoltura è un elemento diciamo estremamente importante quindi c'è anche tutto questo aspetto sulle uve c'era un campo collezione credo ci sia ancora in un'azienda del Chianti non mi ricordo più come si chiama però c'era un campo collezione dove sono raccolte 160 180 varietà a San Felice San Felice vicino a Soparadda in pieno Chianti Lassio e hanno questo campo collezione da tanti anni io l'ho visto con l'istrotecnico agare quindi molti anni fa però è importante appunto perché hanno un raccolto di germoplasma veramente notevole per quanto riguarda queste raccolte monospecifiche del Micheli di cui ci parlava di entità autoctone raccolte per il territorio in che modo delimitava questa variabilità morfologica fenotipica prendeva delle misure diciamo si trovano nelle targhette del bario delle delimitazioni di morfotipi oppure erano raccolte mute diciamo sì cioè tanto parlanti non erano queste raccolte però nei manoscritti c'è sempre una descrizione morfologica foglie allungate però non ti dice di quanto rispetto ad altre insomma tipo nel leccio così periodi in cui magari fioriva fruttificava erano sempre descrizioni abbastanza scarne l'impressione è che lui via via che raccoglieva prendesse appunti sul discorso morfologico e poi si riservasse in seguito poi di analizzare per questo conservava i campioni e quindi con i manoscritti descriva bisogna non l'ho detto ma Michele non ha fatto un tempo a pubblicare niente cioè questi manoscritti erano una sorta di brogliaccio di osservazioni che lui faceva sempre a livello morfologico e lui aveva intenzione di pubblicare lui ha pubblicato praticamente due opere baste uno puscoletto sulle oro banche e poi il primo volume di una serie che doveva essere una lunga serie di volumi in cui lui rielaborava i suoi appunti i suoi manoscritti è uscito un unico volume che è il nuovo a plantare un genera che venne finanziato da Gian Gastone De Medici l'ultimo De Medici quando morì prima di morire chiese a Giovanni Targioni di pubblicare i suoi manoscritti però Giovanni non ce la fece però tornando alla tua domanda erano semplicemente osservazioni è difficile prima si è visto gli ascini d'uva un mezzo oncio insomma con un peso così però ecco erano sempre osservazioni morfologiche e quindi senza nessuna sì peraltro non dico imprecise non lo sappiamo però probabilmente precise però appunto appunto mezzo oncio in questa aso giù è un'unità di lunghezza poco usata poco usata ecco lui le descrive ma poi chi lo sa se se la foglia era quella giusta se se l'ascino era quello buono diciamo come 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 morfotipo come potrebbe essere diciamo appunto di riferimento eccetera quindi non anche lui poi dice tante volte che sono estremamente variabili da mezzo oncio a un oncio che vuol dire un po' tutto quindi certo sono utili perché ci possa andare un raffronto è difficile prendere quelle come descrizioni e oggi come oggi diciamo raffrontando il fatto che lui lavora molto sui nomi questo sì ci ha tolto appunto la descrizione il valore diciamo di queste cose lo si ha secondo me però seguendole anche nel tempo queste descrizioni chi le riprende dopo è il lavoro che si fece noi un po' cioè capire almeno fino alla metà dell'ottocento chi è che riprende queste descrizioni perché poi la stessa descrizione semmai già gli dà un altro nome un altro perché semmai un altro botanico un agronomo eccetera quindi capire un pochettino diciamo il percorso anche che fanno queste descrizioni come girano come vengono prese Ottaviano Tragione Torsetti che le usa è un botanico però di tutt'altra formazione per quanto estremamente attento alla parte agronomica e agraria però è un botanico di un'altra formazione già più lineano è già più cioè ha un'altra testa quindi capire ecco l'evoluzione delle descrizioni micheliane nel corso del tempo cosa non banale però è l'unico modo forse per potergli dare poi un valore in qualche modo importante anni fa ricordo un circolo vicino a Firenze ho assistito a una lezione una conferenza sulla cultura permanente permacultura insomma una cosa del genere lì coltivavano senza delimitare ecco una zona pomodori una zona coltivavano tutto insieme frameschiato addirittura mi pare anche senza lavorare il terreno senza l'uso di fertilizzanti così dicevano senza potare gli olivi voi cosa ne pensate di questa se sarebbe in grado di sfamarci insomma ora che siamo a 8 miliardi la questione esula un po' dalla parte micheliana la permacultura è una tecnica di coltivazione in alcuni casi è efficace funziona in altri casi certo la vedo male per sfamare 8 miliardi di persone però è una tecnica di coltivazione usata in tanti casi che dà i suoi risultati anche positivi questo questo sì certo probabilmente non siamo le persone giuste a cui a cui fuori nonostante siamo agronomi tutte e due la permacultura è un lato un po' particolare però sì anche a me devo dire che l'hanno insegnata poco ma al di là di questo per un'agricoltura obistica o familiare può essere importante per un'agricoltura diciamo che sfama intere città o altre popolazioni non saprei dire ecco ho timore che non riesca ad arrivare sono interessanti le consociazioni un tema interessante per dire per ridurre le infezioni fungine c'è un po' tutta questa sperimentazione anche in atto oggi appunto delle consociazioni che è interessante così come le popolazioni evolutive di cereali quindi non usare un cereale solo come specie ma come varietà ma fare popolazioni o popolazioni diciamo della stessa varietà ma con questa variabilità genetica intragenetica però sono sono non esperimenti sono cose che vanno bene in un tipo di agricoltura diciamo medio piccola ecco medio piccola medio piccola medio piccola vuol dire già qualche ettaro non è che conosco persone in Toscana insomma che vivono benissimo facendo cereali facendo miscele di cereali ecco nel Pisano Florida per fare un nome è un'azienda che fa pasta ha internalizzato un sacco di filiera e con quello campa e campa bene diciamo facendo un'agricoltura sociale assolutamente interessante però si tratta un po' di casi ecco io ringrazio per questo incontro la collega Chiara e Daniele Vergari e la prossima settimana andremo avanti sempre con le piante dei nostri antenati con la professoressa Maria delle Signorini che è una esperta di identificazione delle piante nelle opere d'arte buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.